bella ragazzi qui è ron e bentornati eccoci qui dopo un po di tempo con un nuovo episodio del popò di arma siamo in compagnia di johnny che saluta what's up signori johnny creek e oggi johnny cosa andremo a fare cosa andremo a fare un episodio che il mio carissimo just tipo vieto dobbiamo fare il popò con l'mk48 ormai si chiama anche così se ho zaccato il nome è perché ci ho messo al posto di ron che lui non so che dita forse ha le dita di mago zurli io non lo so ci ho messo 12 due settimane sbloccare tutti i livelli di quel mitraglione stava abbandonando la serie ragazzi mi stava dicendo io non gioco più non ce la facevo stavo impazzendo adesso la faccio vedere nel mio schermo guardate che cosa abbiamo qua dato che molti di voi volevano un sacco di mirini un sacco di cose questa è la classe di oggi mk48 con pistolero primario quindi avremo ben tre accessori all'arma e sono i peggiori e accessori e accessori tra l'altro il dual band è l'ultimo che si sbloccava per questo creek ha dovuto bestemmiare per qualche tempo dual band silenziatore che tra l'altro silenziatore in un mitraglione fai conto che ok non appare nella mappa ma si senta cross the map quando spara a raffica questo robo e mirino variabile zoom variabile scusate quindi potremo anche zoomare col dual band una cosa bellissima immagino stupendo esatto perk abbiamo leggero perché sennò diventa troppo lento il gameplay perché non si muove con queste cose in mano acciaio così ha detto click mi sono fidato oltre il limite perché potremmo fare destrezza per mirare più velocemente ma invece oltre il limite perché noi vogliamo mirare lentamente con questa armonia sai perché ho messo acciaio lo vedi che il vitraione enorme e lo vedi che acciaio c'ha i muscoli da madonna è un collegamento logico certo non fa una piega per per andare nella zona nabba della classe abbiamo bouncing betti a scossa elettrica perché dobbiamo fare un po' i nabbi sapete che con fumogine degli altri episodi le letali le tattiche sono sempre la zona nabba della classe detto questo ci vediamo tra pochissimi secondi perché cerchiamo di entrare in parità assieme in tutti contro tutti e inizia lo sdrogo eccoci qui signori siamo dentro la lobby sono entrati soltanto due nemici per il momento avversari nemici come la metano paura della nostra classe stanno entrando pian pianino quindi ora che inizia la partita dovremmo trovare la lobby quasi piena e obiettivo della giornata per cric sono 30 kg vero cosa ma è vero erano 10 e non vinci cric sei una delusione alla fine ok ma che è che sembra un tappo sopra l'arma sto dual band è un'arma troppo forte cric non puoi deludere così tuoi sembra tipo un mirino con la pasta ci parte vai vai sono pronto il camping forse è nato non l'ho preso porca eva ma gli ho tirato gli ho tirato tipo tutto il caricatore addosso sappi che il mio obiettivo ron è uccidere te è lì uno dove ma non si accontro non mi dir così ti metto angoscia che ho preso da napi qua aspetta ok ma mapponato mapponato preso signori attenzione si comincia bene siamo nel mercato del pesce no stanno paunando violentemente obiettivo cric quant'era quindi 3 kg 15 kg 15 kg vai addirittura la doppia cifra dobbiamo arrivare posso fare ce la posso fare ma dove era ok uno l'ho preso e ciao qua ora che tipo mette mette sul mirino ma non ci trovi qual è il problema che questa ma è giustamente pesa anche una bolgia di kg attenzione gran mossa mamma mia non l'ho preso una volta adesso esco sparando alla chuck norris l'ho visto l'ho visto l'ho visto no questo mi sta prendendo mi sa che eri tu quello che scappavi non lo so sai provare ok oddio ho preso i due la betty ha fatto il suo lavoro ah già la betty ricordi che c'hai tutti preso attenzione attenzione tiro di tutto dischi volanti attenzione qua sta arrivando di tutto qua ne vedo uno ne vedo uno arrivare ok si è giù dalle scale giù dalle scale a quanto sei ron non lo so cric non sto guardando non sto guardando che macello l'hael storm mi hai ucciso tu maledetto disgraziato ma mi dai dei consigli per usare quest'arma o no devo ricaricare dove sei se mi vedevi vuol dire che sei qua ma già te mannaggia cosse va un simbetti ti tiro di tutto addosso non c'è neanche ho fatto esplodere una macchina che figata visto ron t'ho visto non abbiamo neanche la secondaria ah l'ho preso l'ho preso ma hai detto cric non abbiamo neanche la secondaria nel momento in cui dovessimo ricaricare siamo finiti proprio che secondaria c'hai un bazooka ottimo l'hael storm ha funzionato proprio attenzione guarda che mi sto sto prendendo la mano con questo virino oh no ma non è possibile tirato la scosta sei te quello come fai a essere primo mori è sempre primo fa anche 18 costa roma siamo lì eh se vinci cric ti spacco la faccia allora adesso mi impegno adesso mi impegno adesso camper ok sono lontano dal mondo qua cazzo io non ho uno ok con calma scossa betti nabbo time io sono da un balconcino niente male ok 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 qua c'è il silenzio tra l'altro noto che è la seconda volta che facciamo il popò in questa mappa cioè siamo già iemen ormai è mappa popò eh sì iemen ormai è proprio la città della popò della popò ma c'è un atto col cecco suona malissimo poverina nato col cecco scossa preso umori non non è possibile ma quest'arma qui spara hai in mente tipo quelle cose la che ti compravi da bambino quelle quelle armi la verdi che sparavano le palle i cabasesi uguale che giochi avevi da bambino click e non lo so e infanzia hai avuto mamma mia guardalo e 15 le ho raggiunte click io quanto sto non lo so 13 maledizione ce la posso fare cos'è il cazzo mi ha ucciso ante si 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 bouncing 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 bava mamma mia non ne prendo uno cos'è la collina un tanto stanno puntando ne ho visto uno zoom variabile un variabile dov'è ma come funziona ma lo zoom variabile c'è come fai a ma vabbè io non ho capito sculetta come sculetta come la morte e poi devi anche zoomare cioè follia con lo zoom attivo ma tu hai lo zoom attivo no però lo attivo adesso adesso anch'io ho provato l'effetto di questa sdrogo arma preso volevi scappare e raggiungere 15 e 15 anch'io l'abbiamo raggiunto l'obiettivo modo da cercare di vediamo un po come va ti giuro che se vincita ti ammazzo e come faccia vince zoomato con lo zoom una cosa allucinante attenzione e qua ci sono due spawn nella mappa o a destra o a sinistra no bastardo ok mamma mia spara con sto coso ma non è ma spara spi pronto mi puoi passare il lo sviluppatore di code tutto spilli spara non ho capito ho visto ron passa dalla pioggia di proiettili no vieni qua krik vieni qua krik vieni tu lì non scappare codardo lo sto scappando guarda che tira le boss in betty e camper and ho visto che trica se un vigliacco mamma mia non queste tattiche delle bouncing betty et la nabbo time siamo parlavo tirato anch'io non capisco perché non sei esploso e mi hai ucciso prima probabilmente ma giusto è vero aiuto aiuto eh ciao sto qua arriva in rushing ma dai maledizione attenzione ma han tirato un drone vuoi vedere che prende me no prende me prende me prende me ho preso krik lol ce lo sapevo se l'ho cominciato a sentire ecco lì uno dai ma ero dentro no ha rimontato ragazzi no krik per favore recupera recupera che cosa recupero vai vai che recupero tranquillo dobbiamo fare la rimonta abbi fede no 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 valedizione sai cosa ci vuole no di silenzio si sta bisogna far esplodere le macchine madonna mia che lentezza nel caricare l'arma sta roba ma perché scusa sei arrivato a caricare l'arma no no nel senso a caricare il mirino nel senso di andare a vedere il mirino quella roba lì è assurdo dov'è aspetta aspetta che l'ho visto io preso preso rom preso si 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 erano tutti qua si quickscope con il mitraglione arriva l'altro stato lo stronzo mentre li stavo sparando non ci credo cos'hai fatto mi ha quittato c'è uscito la partita aveva paura della super arma di qua crei che vieni qua maledetto 25 rimontone love dove mi segnala le cose mamma mia io sto sprecando sia le cose sia la simbetti che qualcosa perché le tiro sempre fuori dalla mappa maledizione tranquillo no 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 niente non vieni qui dal piano della verdura sono tutti qui era troppo vicino 25 pari stiamo qua eh tranquillo tiriamo una scossa non è possibile fa schifo quest'arma eh ma non ce la faremo mai ce la faremo ce la faremo quello sta a 26 o uno o l'altro tu spara tutto ciò che si muove lo sto già facendo ma dove cazzo mi sta sparando quello è incredibile e usa le scosse eh ma io non lo vedo dove cazzo è dietro la tipo mamma mia mi sta mi sta distruggendo mi ha parato la betty mi ha schivato la betty ma gli sta distruggendo dietro e ciao grey dai panic mostro vada dietro dai 25 eravamo quasi vicini alla vittoria no sono in negativo negativo cric questo qua mi ha rubato l'arma ha raccolto la tua arma ti ha proprio inculato si proprio da panico esatto vai vai un'altra difficita cazzo dobbiamo farcela stavolta ci dobbiamo coalizzare no no io a te ti ucciderò sempre comunque no anch'io ti ucciderò sempre abbi fede che ti ucciderò sempre però bisogna coalizzarsi fai casuale fai casuale che esce Yemen no basta no Yemen no meltdown è troppo lunga come roba ci vorrebbe tipo i jacket no no adesso tu fai casuale esce Yemen quanto ci fai no perché ha già votato cioè non si può clic dai su perché è tra le due scelte se fai casuale non ti capitano le due scelte che abbiamo ti 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 stava elaborando il pensiero stavo elaborando la strategia di vendetta per la nuova partita ma giù tipo no alla fine le betty sono le più cattive ma è che mira troppo lenta a voglia io tolto che ora che spara passa la vita ma ora che metti sul mirino mangia ucciso tre volte esatto perché poi non è che puoi sparare senza il mio perché io comincio a sparare mentre sto mirando ma i colpi sembrano spermatozoi che vanno ovunque vanno a 180 gradi lateralmente esatto esatto slums la voglio vedere perché particolare come mappa io sai qua c'è un posto molto molto bello dove ci sono le lavanderie camping time esatto sto già andato a piazzare la tenta mi metto con una betty in un angolino scossa da una betty dall'altra esatto vediamo un po come va questa 3 2 1 via io mantengo le 15 kill come standard è una volta che faccio tranquillo ecco ce n'è già uno lì in fondo ma cos'è questo qua mi prende subito come un porco aspetta ah no eccolo lì oh eccolo io la vedo molto male per me sta roba riporti ma non c'è mamma mia guardalo guardalo come prende mano col suo dual band zoomabile spara forest no sono morto maledizione io li metto io colonio colonio ciao hai finito di camperarmi di fianco come termine colonizzo questo angolino di mappa guardalo mi stanno mi stanno puntando in otto no sono io che si stavo sparando non t'ho preso una volta sì cric 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 ti prendo io ho preso cric uavvi ore a mi metto qua a fondo mappa come un nabbo no aspetta credizione mai sempre lì già strong cos'è effettato quel furgone sei uno e ero proprio in camping time aspetta quello lì stanno prendendo anche il drone hai preso mi ha ucciso anche con il suo drone sono in cattivo in cattivo modon adesso non transigo guardalo no no perché quella a fondo mappa ma cosa ha messo no l'infiltrazione non può averla messa per rinascere lì ancora aspetta aspetta che qua c'è un bello spottino per no no zio no cric maledetta si muori hai sparato la mia scossa tipo ho sparato a qualunque roba si muovesse infatti ho visto che sbarrettato io questo qua mi ha distrutto aspetta ce n'è lì in fondo preso ok analizziamo la situa ok 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 ma mi sa che ci sono dei fratelli che ci rubano l'arma stanno giocando anche loro col vitragliore sdrogano anche loro in clima sdrogo è probabile apprezzano l'inventiva o cio 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 dietro sette rumore dove sei eccola lì lo sapevo chiedi tu cric comunque ci siamo dimenticati di dirlo prima intanto qua mi stanno parando a destra e sinistra il prossimo episodio sarà con i cecchini quindi sarà decisamente ancora peggio di questo come cosa pensate in che situazione mi ritrovo il ron vince sicuramente perché fai conto che quei cecchini si può inventare tanta bella roba per queste cose io tanto so già quale sarà più o meno io ho già un'idea non la voglio dire per per dare libera scelta alla gente perché il mio caro amico lista sicuramente sceglierà il signor lista con un certo site e un silenzio ore che il mio caro amico lista mi fa sempre it marker ci vogliamo bere sempre oddio quanto ci impiegato a prendere quello si fa sempre it marker e poi vogliamo mettere con tipo silenziatore e virino iron site è possibile io non non ci arriva qui dici stavolta spara metti lo zoom variabile tipo rincura troppo è vero bello bello bella action guarda le scosse di ron si 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 anche la betty come funziona tutto questa mia tattica strategica bastarda nabba tutto quello che vuoi mettere per per distruggere una scossa c'è impiegato un quarto d'ora betty fa il tuo lavoro betty fa il tuo lavoro bastardo mio dio scatto no non è possibile la cross the map non so più dove c'è ron ti hai di conto che ho sparato 86 colpi non ne ho preso uno è giusto così ok ho preso questo questo mi ha letteralmente devastato vieni qua bello che parte sta girando vieni dalla lavanderia ron ti aspetto vai spara nabbo nabbo shot no ha preso con la granata il nabbo shot era tanta roba vuol dire che devi sparare tipo senza mirare continuamente camminare tu miri e poi spari o cominci un po a sparare mentre c'è mentre stai mirando spari cose tecniche non me ne intendo sono morto in questa zona qua della mappa appena mi sposto sicuramente mi arriverà uno da dietro dall'avanti oddio ce l'ho fatta io non ci arrivo ron sono 12 non ce la farò 13 o click forza ragazzi 13 forza vai con le 15 clic ti voglia 15 clic a tutti i costi ti voglio faccio ce la faccio c'è tempo o cinque minuti per fare due kill però neanche che qualcuno non vai vai no valedizione ok non ci provare a non fate non ce l'ho fatta mi manca una chi ce la posso fare forza ragazzi vuoi ma preso ma muore cric 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 guarda quanto sono cric come è possibile basta io mi suicido con le basse in betty e che quanto sono uccisione di betty finale la voglio la voglio la voglio non la fare su di me mi ha ucciso ero 30 10 ce la facevo cric non puoi farla sempre sempre su di me giuro che faccio 30 10 guarda guarda eh guarda no no non è esploso l'elicotterino ma dove sei se non sono neanche in classifica ho fatto 30 10 cric vabbè io ho fatto 16 sono giusto oddio ma che cazzo di boing 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 una ventolina sopra al mirio infatti un colapasta è solo uno scolapasta sopra al mirio però è epica epic e nel prossimo ci sarà no da divertirsi prossimo ragazzi io ho piango già c'è ho proprio paura non vorrei mai che uscissero pensate quanto ci metterò io a sbloccare vabbè ballista tanto l'ha già sbloccato ah no è vero sì sì appunto comunque connessione con usciamo dalla partita io tutto nero ragazzi vi ricordiamo prossimo episodio mettete nei commenti il cecchino con cui volete conciarlo peggio per fare il prossimo episodio di arma noi abbiamo già dato qualche indizio perché secondo noi alcune cose potrebbero essere molto complicate vi ringraziamo per aver visto questo episodio speriamo che vi siete divertiti come abbiamo fatto noi ringrazio johnny prestato qua con me oggi a giocare è un onore niente io vi saluto qui la ron lasciate un bel mi piace se volete e lascio salutare johnny adesso signori ciao fratelli e al prossimo episodio ciao ciao ciao